Ciao a tutti, buonasera, una diretta velocissima per ricordarvi l'appuntamento di domani mattina. Domani mattina vi troverò con l'amico Antonio Alfieri per fare una diretta insieme a voi alle 11.30 di mattina e parlare di questa iniziativa, di quello che succederà il 13 di ottobre a Roma, perché ci stiamo mobilitando, stiamo mobilitando le attività, i dipendenti, il popolo, la gente, le famiglie, i genitori, le mamme, i bambini, i ristoratori, gli imprenditori, tutti, tutti quelli colpiti, tutte le persone colpite da queste bollette senza ritegno, queste bollette che stanno distruggendo la nostra economia, il nostro tessuto sociale, la nostra Italia. Quindi è arrivato il momento di farlo da cittadini, da italiane e da italiani, senza nessuna distinzione, non vogliamo distinzione di colore di pelle, sociali, partiti, sinistra, destra, centro, vax, no vax, trivax, non ce ne frega niente. In questo momento la necessità è poter sopravvivere a livello economico, riuscire ad arrivare a fine mese ed è una difficoltà che in troppi, in troppe famiglie, in troppe aziende, in troppi commercianti, artigiani, lavoratori, in tutti i settori, purtroppo è una necessità che tutti hanno. Quindi domani mattina ore 11 e 30, vi chiederei di collegarvi, ci collegheremo dalla pagina o dalla mia o di quella di Antonio Alfieri o da entrambe. L'importante è collegarsi perché vi diremo, vi diremo quello che succederà, quello che faremo e perché servirà il vostro aiuto. È necessario dare un segnale forte al governo precedente, al governo attuale, ai politici di ieri, ai politici di oggi, ai politici di domani, a tutti. Far capire che se il popolo è unito, il popolo decide in modo democratico, in modo educato, però perché noi siamo democratici, noi siamo per la non violenza, però faremo capire che il popolo non ce la fa più, che il popolo non arriva più a fine mese. I nostri figli sono a rischio di sopravvivenza, perché si rischierà, continuando così, di chiudere troppe attività e di trovarci, di non avere più i soldi per dar da mangiare ai nostri figli. E a questo punto non ci vogliamo arrivare, non vogliamo chiudere le aziende, non vogliamo fallire tutti. Quindi domani mattina, domani mattina ci sentiremo, le ore 11 e 30, con questa diretta dove vi spiegheremo quello che faremo, quello che faranno gli imprenditori, gli artigiani, i dipendenti, i commercianti, tutti quelli che hanno le famiglie, tutti quelli che hanno un problema energetico, un grave problema energetico, perché stanno speculando sulle nostre vite, stanno speculando in modo indegno sulle nostre vite. Quindi domattina, ore 11 e 30, sarò con l'Antonio Alfieri. Mi raccomando collegati. Ciao a tutti, ciao a tutte.